Di Paola riparte dai quartieri per rafforzare il cantiere di ascolto e puntellare il programma della coalizione. E' questo il senso dell'incontro nella circoscrizione Carrassi organizzato da Forza Italia che ha riunito i vertici dei partiti, delle associazioni e i cittadini. Un confronto serrato sui problemi sul tappeto e sulle proposte per migliorare la qualità della vita in quelle che il candidato si rifiuta di chiamare periferie. Vedo emergere dei problemi di carattere strutturale comuni a tutti, i trasporti per esempio, la sicurezza, la pulizia, le opere non completate, le opere completate e abbandonate. Ci sono temi che vedo ricorrere in ogni quartiere che richiedono un approccio risolutivo e globale con una visione della città che ci indichi che cosa fare di queste problematiche. Ma a rovinare il clima piomba la notizia del ripensamento del nuovo centrodestra su Di Paola. L'onorevole Cassano riprende le distanze e guarda il suo candidato, Monteleone, dopo l'avvicinamento dei giorni scorsi, anche se rinvia di sette giorni il verdetto finale. L'onorevole D'Ambrosio Lettieri, coordinatore di Forza Italia, si dice stupito e incredulo ma auspica di ritrovare l'unità sui contenuti. La parola credo che si riprenderà il cammino e si giungerà presto a una conclusione condivisa.